Un pareggio che sta stretto al Pineto, quello che matura al termine dei 94 minuti ben giocati contro la corazzata a campo basso, termina 1-1 al Mariani Pavone tra qualche polemica e un po' di amarezza che non scalfisce però la buona prestazione dei ragazzi di Amaolo. Assenze pesanti per il tecnico marchigiano, costretto a rinunciare a Pezzotti e Mariani, entrambi fermati dal giudice sportivo e con Fiumara e Zane recuperati in extremis. Nel campo basso assente Leone per squalifica al suo posto, Masecchia inserisce Esposito Lauri. Pronti via e subito Napolano, autore di una buona discesa sulla sinistra, prova a servire Gragnoli, anticipato da Landi in uscita. Insiste il Pineto che approccia bene la partita e al dodicesimo sfiora il vantaggio con il diagonale di Bisegna che fa la barba al palo. Al diciottesimo la risposta del campo basso che col passare dei minuti viene fuori. In Gretolli servito da Ribeiro calcia su Giacchetta da distanza ravvicinata, il rimpallo favorisce l'attaccante Molisano ma Pomante fa il miracolo salvando sulla linea. La gara è viva, giocata sul filo dell'equilibrio tra due formazioni in palla. Al ventiquattresimo ancora Napolano, autore di un'ottima prova, se ne va sulla corsia di sinistra e mette in mezzo per Bisegna che da buona posizione impatta male con la sfera che si impenna. Le due squadre ribattono colpo su colpo e al ventisettesimo sugli sviluppi di un corner, Esposito Lauri da fuori lambisce la traversa. È il preludio al vantaggio Molisano che arriva al trentatreesimo quando Ribeiro, il migliore tra gli ospiti, pesca in area ad Agostino, lasciato libero di calciare a rete e firmare il nono sigillo stagionale. Due azioni da Moviola da una parte e dall'altra nei minuti immediatamente successivi. Al trentaseiesimo Ribeiro potrebbe andare a rete ma viene fermato in posizione di fuorigioco anche se è Zane ad innescare l'esterno. Al quarantesimo dalla parte opposta contrasto in area tra Ciarcelluti ed Elefante con il direttore di gara che ammonisce tra le proteste pinetesi l'attaccante Biancazzurro che però si rifà tre minuti più tardi quando raccoglie il taglio di Napolano e intuffo, supera Landi riportando il risultato in parità proprio prima di rientrare negli spogliatoi. La ripresa riparte subito su ritmi elevatissimi, appena due giri di lancette e Giacchetta viene chiamato al miracolo sul Ribeiro ma dall'altra parte anche Landi fa il suo alzando oltre la traversa il diagonale a botta sicura di Gragnoli. Al trentatreesimo occasionissima per il Pineto che nella seconda frazione si fa preferire ma non riesce a concretizzare con il neoentrato Battista che spedisce al lato il traversone di Esposito. La risposta del Campobasso affidata a Esposito Lauri che tenta la conclusione dalla distanza deviata in corner. Finale concitato al quarantacinquesimo quando il Pineto chiede a gran voce un calcio di rigore per la presunta trattenuta di Lagnena su Di Rocco in volato a rete. L'arbitro fa proseguire tra le proteste e in pieno recupero il Pineto perde anche Pepe che viene espulso dall'arbitro dopo aver consultato il secondo assistente Matera molto probabilmente per un contatto con Carbo. È l'ultimo atto di una gara che non regala né vincitori né vinti ma grandi emozioni. Tornano a casa con un buon punto i lupi molisani mentre al Pineto resta comunque la soddisfazione di aver offerto una buona prestazione. Forse ai punti avremmo arrivato qualcosa in più. È stata una bella partita, entrambe le squadre volevano vincere dopo un primo tempo dove forse il Campobasso ha fatto qualcosina più di noi anche se la mia squadra su qualche ripartenza non è stata precisa. Nella seconda frazione secondo me abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, abbiamo avuto 4-5 opportunità importanti e tra cui un episodio molto dubbio di un rigore a nostro favore. Poi avete sbagliato dei gol clamorosi, perché? Sì, siamo stati poco cattivi sotto porta. Capita magari creare tante occasioni e non essere decisivi. Però l'importante è che la squadra ha fatto una buona prestazione contro una squadra importante come il Campobasso. Quindi questo secondo me ci fa crescere mentalmente come squadra, come potenzialità di squadra e dobbiamo soltanto lavorare e migliorare questi particolari che sono particolari importanti perché poi quando crei tanto è giusto magari finalizzare. Però siamo secondo me in una buona discreta classifica, possiamo migliorarla. Dobbiamo fare più punti possibili fino a quando finisce il giro di andata e poi vedremo un attimo la nostra classifica. Ripeto, la prima ora è stata ottima, tante occasioni, poco sfortunati, poco cinici. Poi sì, siamo un po' calati, però l'importante era comunque muovere la classifica. È un momento un cambio importante in panchina, societario, quindi non sono mai facili perché la squadra ne risente sempre. Comunque abbiamo tenuto un punto in una squadra che comunque sia sesta, settima, fuori casa. Quindi testa al Matelica per una buona partita. È una situazione che comunque in allenamento proviamo spesso. È un gol importante perché il pareggio è stato importante. Forse se avessimo spinto qualcosa in più avremmo potuto anche vincere la partita. Comunque siamo contenti del punto preso. Magari sono due punti persi piuttosto che uno guadagnato, però lavoreremo in settimana e nelle settimane per fare sempre meglio, per arrivare nelle posizioni che ci competono. Giordano è un giocatore che con le qualità che ha può andare indipendentemente a sinistra e a destra. Quindi diciamo che è imprevedibile sia per gli avversari che per i compagni. Poi noi compagni abbiamo delle giocate preparate, che faccio un allenamento. Quindi come ho visto che rientrava, sono andato dentro e mi è arrivata la palla. Ammonito per simulazione prima del gol. Contrasto con l'elefante, lo puoi dire nell'intervista se hai voluto simulare? Diciamo non se hai simulato, se hai accentuato. Guardi, io ho stoppato la palla col petto, ho tagliato fuori il difensore. Il difensore centrale, senza farlo apposta, correndo davanti a me, con le gambe mi ha preso. Quindi sono caduto per quello. Ho accentuato solo l'urlo perché non mi sono fatto male, ovviamente. Ma l'arbitro infatti me l'ha detto. Mi ha detto sì, il contatto c'è stato, ma tu hai accentuato l'urlo, tu hai munito per quello. Quindi il rigore poteva esserci.